San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa, afferma che dal momento in cui ci ha donato il figlio suo, che è la sua unica e definitiva parola, Dio ci ha detto tutto in una sola volta in questa sua parola e non ha più nulla da dire. Comunque non è detto che le rivelazioni private d'oggi siano tutte opera del Marigno. Bisogna discernere senza scartare le profezie, come diceva San Paolo. La Bibbia è piena di apparizioni e visioni sopranaturali, persino nei sogni. Proviamo a pensare ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè, Davide, Salomone, Elia, i profeti, Zaccaria, Giuseppe, e Maria, Gesù Cristo stesso che è apparso risorto per 40 giorni, San Paolo ed il profeta Anania, eccetera. Perché dall'aldilà non dovrebbero apparire anche oggi che abbiamo ancora più bisogno per rinforzare questa fede così labile? Il Catechismo comunque sostiene che pur non appartenendo al deposito della fede, le rivelazioni private possono aiutare a vivere la stessa fede, purché mantengano il loro stretto orientamento a Cristo. Il Magistero della Chiesa, a cui spetta il discernimento di tali rivelazioni private, non può pertanto accettare quelle che pretendono di superare o correggere la rivelazione definitiva che è Cristo.